oh e voilà complimenti salvo tu sei un prodigio della natura esagerato, così mi fai emozionato e poi niente, manco un grazie, ma chissaccio ah, certo, complimenti cugino faccio l'applauso se non si offende certo, ma perché l'ha vinta, non è la partita comunque un grandissimo Milan stasera un grandissimo salvo vorrei dire infatti per come stavamo, se non c'era salvo ne prendevamo 5 stasera hai detto bene noi stasera incredibilmente e stranamente abbiamo giocato in maniera perfetta ma Real stasera non è stato nulla di che anche perché è annullato dal da salvo da salvo, certo ma quindi la scaramanzia funziona così cioè i meriti sono sempre suoi sì, e i demeriti miei ti ricordo la sconfetta con Liverpool dai Giovanni stasera sei stato bravo anche tu bravo Giovanni grazie ma bravo perché? vabbè perché comunque va non mi sono mosso non ho bevuto non ho urinato ah, però dico diamo anche qualche merito a Fonseca e a tutti i ragazzi, no? no, ma certo abbiamo vinto in parte anche grazie a loro anche grazie a loro certo comunque ragazzi quello che vi volevo dire è che noi dobbiamo credere in questa squadra in questo allenatore ma soprattutto in questa società tanto criticata anche ingiustamente direi ricordatevi che sono pur sempre dei professionisti e che Redbird è azienda leader nello sport non ti facevo così aziendalista infatti non lo è o meglio lo è solo quando si vince cioè una decina di volte a stagione comunque ragazzi come d'accordo sono 5 mila euro per la vittoria di stasera vittoria corre a Madrid dai, non so se mi spiego ci altri si prendono molto di più no, ma lo sappiamo lo sa altri chi? allora noi eravamo rimasti che visto che anche la prima vittoria è in Champions no, con Salvo ci date solo 500 euro a testa beh, spese giù io non esco un centesimo già te l'ho detto l'altra volta che io, scusate ragazzi ma non credo nella scaramanzia ce lo accompagno mi diverto se siete divertenti mi guardo le partite insieme a voi ma io non tiro fuori un euro va bene va bene il nemico ci penso io io metto mille dai, allora facciamo così dammi solo la tua parte 500 euro e il resto ce lo mettiamo noi ma se lui vuole mettere mille ma la picchia ti deve entromettere vabbè, conto ve lo fate voi basta che mi pagate grazie ragazzi ma tu fatti i cazzo no, ora dove troviamo queste altre 500 euro? oh ma certo che sei una cosa tu c'hai in una serata di festa come questa con una vittoria sontuosa al Bernabeu dove gli hai dato tre pere a Real Madrid tu pensi ai soldi certo, uno ci pensa quando non ce li ha vabbè, e ora tutti insieme sempre insieme a te sarò solo mai ti lascerò sono nato rosso nero da povero mondo ero da povero ero